Alessandro Di Battista, ben tornato di martedì. Grazie, buonasera. Allora, cominciamo dalle banche. Ancora, dopo due anni. Allora, Ignazio Visco, cosa l'ha colpita di questo fatto? Lui ha detto, ho parlato due o tre volte con Renzi, la prima volta parlavano d'economia, la seconda ha fatto delle battute sugli orafi di Vicenza e comprano quelli di Arezzo, ma non ho neanche risposto. Una terza volta mi ha detto, parliamo di banche, io ho detto, se ne occupa Padoan, il mio referente è Padoan. Lei che ne deduce? Che i renziani hanno utilizzato cariche pubbliche per fatti personali privati, non soltanto Renzi, ma anche appunto Raboschi, perché tra l'altro, come lei sa, l'articolo 7 del testo unico bancario, c'è scritto che di banche con Banca Italia può parlare il ministro dell'economia, in questo caso Padoan, e io ho visto in questi anni tante tante mezzogne, e quello che le dico, appunto, come dissi alla Boschi quando presentavamo due anni fa la mozione di sfiducia, che loro hanno utilizzato delle corsie preferenziali. La Boschi e Renzi non sono andati a parlare del sistema bancario, del problema dei risparmiatori, ma della banchetta riconducibile appunto alla famiglia Boschi, dove la Boschi era piccola azionista, il padre vicepresidente, il fratello ci lavorava, e andava in giro a chiedere, evidentemente, a perorare la causa di Banca Etruria, utilizzando un ruolo istituzionale, e non lo può fare. Allora, questo però è quello che lei evince dai fatti, perché invece la Boschi dice, primo, ditemi una cosa che io ho fatto a favore della banca, il fatto che io vada a parlare della banca del mio territorio, la banca di Arezzo, è in qualche misura, diciamo, non solo legittimo, ma quasi doveroso. Lascia intendere Renzi poco fa, ha detto, ma io mi caso a un passante, io mi devo informare sulle cose normali che parli anche con le istituzioni. Mio padre è un piccolo imprenditore, c'è una piccola impresa nel Biterbese. Qualora io fossi andato a parlare della piccola impresa di mio padre, utilizzando il mio ruolo di deputato, per quanto ci riguarda, avrei attuato in conflitto di interessi. Questo è il punto. In un paese normale, un ministro per i rapporti con il Parlamento, non un ministro dell'economia, che ha il padre vicepresidente in una banca, che ha il fratello che lavora in quella banca, e lei che è piccola azionista in questa banca, non va in giro a parlare con banchieri, con pezzi grossi della vigilanza, a esprimere preoccupazioni su una fusione tra banca Etruria e la popolare di Vicenza. Questo si chiama conflitto di interessi. Poliamola in un altro modo, perché le chiedo una definizione di conflitto di interessi. Per vent'anni ce l'hanno menata con il conflitto di interessi di Berlusconi, non l'hanno toccato e si comportano peggio che di Berlusconi. Le chiedo una definizione di conflitto di interessi, perché poniamo che questa sia la sua scelta, no? Dice, io non l'avrei fatto. Poi più che un'impresa dovrebbe parlare di una banca, perché il credito per una zona è importante, una banca Etruria è importante per l'Aretino, a prescindere dal ruolo della Boschi. Però poniamo che lei decida di confortarsi così. La Boschi dice, io, l'antitrasta ha detto che non c'era conflitto di interessi, il Parlamento c'è stata una mozione di sfiducia vostra ed è stata respinta, il partito è solidale, perché nessuno mi chiede di andarmene. Se io ho una posizione differente da quella di Battista, che male c'è? A parte il fatto che io, se dovessi essere cinico, lavorerei ancora al governo, perché ogni giorno che la Boschi resta bullonata a quella poltrona, il Partito Democratico perde consensi. E questo probabilmente... Ma il problema è un problema di credibilità del Paese. Noi abbiamo presentato una mozione di sfiducia, è un atto politico, qua non si tratta di un avviso di garanzia. Quando la Boschi disse, ma ve lo ricordate, questo Paese non c'ha più memoria, quando la Boschi disse sul caso Cancellieri, che era Ministro della Giustizia, che telefonava ai vertici del Dipartimento delle Carceri per perorare la causa della figlia di Ligresti, amico suo, attuava in conflitto di interessi. Dal punto di vista politico, la legge che c'è sul conflitto di interessi oggi è una legge ridicola, che ha fatto Frattini, Berlusconi, e il Partito Democratico, ripeto, per vent'anni, ci ha angosciato con la storia del conflitto di interessi e quando ha governato non ha risolto la questione. Quindi è una questione politica. Poi vedremo oltretutto la deposizione di Ghizzoni. In pratica la Boschi parlava con i vertici Banca d'Italia, tra l'altro, mentre c'erano le ispezioni a Banca Etruria, mentre c'erano le ispezioni a Banca Etruria, appunto la banchetta ricondosceva la sua famiglia. parlava con Vegas di Consob, il quale risponde alla Boschi io non ci posso entrare, non sono mica a fare i miei una fusione tra banche. Parlava con Ghizzoni di Unicredit chiedendo l'acquisizione e l'acquisto da parte di Unicredit di Banca Etruria. Cioè lavorava da Ministro della Repubblica per scopi privati. Se poi lei prima mi ha chiesto favori o non favori. Se poi lei sia stato in grado o no di lavorare a favore della sua... Quindi per lei è un concetto di opportunità politica. Certo, mica siamo andati a denunciarla in procura. Quindi è discrezionale, diciamo. Ne risponderà delle sue decisioni. Ne risponderà, innanzitutto tra poco davanti al popolo italiano. Come però già ne ha risposto quando gli hanno bocciato le riforme costituzionali e la Boschi. Come Renzi dichiararono Urbi e Torbi anche di fronte al Parlamento, Renzi, quindi di fronte al Paese intero, qualora dovessimo perdere il referendum ma abbandoneremo la politica. Io dal 2014 che dico che non mi sarei ricandidato qualora fossimo arrivati a fine registratura e così è stato. La parola data, ma penso che oggi lo dica pure Richetti che attacca Renzi. Guardi, me lo sembrava. Lui dice, beh, non c'è certo, non sono assolutamente contro Renzi. Hanno preso un minutino, ma non è... Questo è il momento in cui tutti... È una polemica montata su nulla, secondo Richetti. si abbandona la nave che sta affondando, cioè il Partito Democratico, che ha governato e non ha risolto nessun problema. Doveva abolire i vitalizi, doveva abolire i costi della politica, doveva fare gli interessi dei lavoratori e hanno abolito l'articolo 18. Questi di sinistra, questi pugno chiuso, foto di Berlinguer, questi ipocriti dentro l'ufficio hanno abolito l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. Allora... Basta. Ora gli italiani devono prendere una decisione. Guardi, dibattita. E stare con coloro che hanno distrutto questo Paese o dare un'opportunità al Movimento 5 Stelle. Allora, onorevole dibattita. Se no, ci ritroviamo Berlusconi con le dentiere, i mille... Ci sono due punti. E basta, io non ne posso più. Ci sono due punti. Non ne può più, infatti, lei se ne va, no? Come? No, non è che non ne posso più della politica. Io non vedo l'ora di fare campagna. Il mio obiettivo è ripetere... Sì, vabbè, però lei non può solo, diciamo, raccogliere il consenso. Poi c'è una responsabilità. Poi dopo le tocca fare anche il deputato, perché dire, eh, eh, e poi se ne va. Io il deputato l'ho fatto. Va in vacanza. Già l'ha detto una volta e mi ha fatto arrabbiare moltissimo. Perché lei ha detto, voglio viaggiare, voglio vedere il mondo. Tornare al mio mestiere, Floris, non si può permettere di dire che è una vacanza. Perché io prima di entrare... Lei ha detto, voglio viaggiare e vedere il mondo. No, io ho detto che voglio tornare al mio mestiere. Come ho sempre detto, che volevo fare una legislatura e l'ho fatta con il massimo impegno. E sono fiero, perché mi potevo sporcare le mani in quel palazzo del Movimento, sperando che Di Maio sarà il prossimo Presidente del Consiglio perché ci credo fermamente e il Movimento 5 Stelle andrà a dove? Senta, onorevole, c'è una cosa di quello che dice... Mi chiamava una volta deputato, era onorevole. Senta, dottor Di Battista. Bene, anche perché che ne dica a Berlusconi sono dottore, sono laureato. No, lo so, lo so. Allora, senta, diciamo, lei dice, la Boschi faceva degli interessi, chiedeva, denunciava, lei dice, mi interessavo solo, al netto di questo. C'è un aspetto che dice, che secondo me è molto centrato, colpisce il fatto che una banca così piccola possa essere di interesse del Presidente del Consiglio, possa essere di interesse di un Ministro, e poi uno dice, beh, certo, è il padre. Il padre è la vicepresidente. Questo scambiare il piccolo per il grande, no? Dà un'idea, in qualche misura, e secondo me è quello che paga il PD, perdendo ora consenso dei consensi, dà un'idea di inadeguatezza della posizione che si ha. Dice, tu c'hai in mano la crisi bancaria più grande in Italia, probabilmente da inizio del Novecento, e ti interessi di una banca così piccola. Formalmente non sei perseguibile, perché in effetti ti può interessare, però sostanzialmente non trova che questo sia un dato che in qualche misura vi accomuna, Renzi. Le faccio l'esempio dell'euro, ok? Di Maio dice, se ci fosse un referendum che io prenderei solamente come ultima istanza, dopo aver cercato di cambiare le cose, se ci fosse quel referendum voterei no. Quel candidato premier del primo partito del paese, potenzialmente un premier. Dice, ci sarà un referendum, e io nel caso voterei no. Lei sa cosa è successo quando ci fu il referendum in Grecia, no? Se si ricorda Varoufakis, tutti andarono a ritirare i soldi, la moneta perde valore, si filano, dovessero chiudere le banche. Questa però, forse, questa è l'ultima intervista che faccio con lei, forse da deputato, sperando che nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, verranno sciolte appunto le case. Per cui lei mi consentirà la possibilità di esprimere un ragionamento senza interazione di 30 secondi, perché sono tematiche... Sì, sì, ho fatto già una domanda di un minuto. Molto delicata. È legittima la risposta. Questa è la nostra posizione in merito all'Europa. Io ho visto che negli ultimi anni l'Europa ha messo bocca sulle pensioni, sul prezzo della feta in Grecia, sulla riforma Fornero, è stata di fatto un'unione finanziaria imponendo alcuni parametri votati, tra l'altro, nella passata legislatura da tutti quanti insieme, da Bersani, Meloni e Berlusconi, tutti quanti dei parametri che strozzano le nostre imprese e le nostre famiglie. Le ci strozzano perché non ci permettono di fare investimenti, eccetera, eccetera. Quello che vogliamo fare noi per la prima volta ci sarebbe un governo che non ha questi legami con il capitalismo finanziario, con le banche d'affari. Noi andiamo lì con il mandato del popolo italiano per ridiscutere determinati trattati. Ah, è consultivo. Si tratta soltanto di chiedere l'opinione agli italiani. Con un premier che dice se ci sarà io voterò. E certo, perché questa è un'arma. Io ricordo quando Cameron ha indetto il referendum sulla Brexit, Cameron era contrario all'uscita del Regno Unito appunto dall'Unione Europea. Il Movimento 5 Stelle non ha mai preso posizioni per essere chiari contro e per l'uscita dall'Unione Europea. Soltanto per aver indetto quel referendum, l'Unione Europea è andata da Cameron a iniziare a trattare. Noi vogliamo trattare per ridiscutere... Ma è vero o no che vuole uscire dall'Euro di Maio se c'è da votare? Le sto spiegando con questo ragionamento perché si tratta di trattativa. Mi viene da capire che sia un blef. Per niente blef. Si tratta di andare lì e dire all'Europa dobbiamo rivedere certe cose... Se non me ne vado. Dobbiamo rivedere certe cose perché l'Italia muore. Qualora, qualora dovessero essere sordi alle richieste, ma io non credo che ci arriveremo mai, qualora dovessero dimostrarci sordi, allora abbiamo anche in mano un referendum sul... che è consultivo che chiede l'opinione al popolo italiano in materia di moneta unica. In cui il Premier vota no. In cui il Premier anche il sottoscritto in quel caso voterebbe no. un limite da porre ai prelievi in manca? Io sono convinto. In Grecia si mise 60 euro al giorno. Floris, io sono convinto che a queste ipotesi non ci arriveremo perché otteremo dei risultati. Però questa è la trattativa. Quella trattativa, Floris, che sono 20... No, cioè, speriamo che non è mai stata fatta. Avete posto un limite con tanti che si possono prelevare dalla banca. Abbiamo in mente questa strategia che ci consente di utilizzare anche un'arma in Europa per ottenere dei risultati per il popolo italiano perché l'applicazione to cure the fiscal compact di queste regole produce lo smantellamento dello Stato sociale. E io, per concludere, perché io sono chiaro su queste cose, tra l'Unione Monetaria e i diritti delle famiglie, dei risparmiatori, dei pensionati, della salute pubblica, dell'istruzione pubblica che è stata sistematicamente smantellata dalla falsa sinistra e dai liberisti. La garantisci uscendo dall'euro? No, la garantisco con una trattativa. Ripeto, qualora questa... Minacce. Minacce sono delle armi politiche che ha messo in campo anche Cameron. Tra l'altro, poi, il popolo britannico ha votato per l'uscita. Ma questi sono aspari del popolo britannico. Spero di essere chiaro. Noi dobbiamo iniziare in Europa a far capire che l'Italia conta che è un paese che non può continuare a cedere sovranità su tutto, ottenere dei risultati. Qualora ci dovessero rispondere picche, ma per me non avverrà questo, allora c'è quell'ipotesi. Si chiama anche trattativa fatta finalmente nell'interesse del popolo italiano. e abbiamo gli attributi per farlo. Allora, dice Di Maio abolirò abolirò la fornero. Dice, beh, la fornero si fa risparmiare molto. Dice, beh, ma io metterò fine alle pensioni d'oro. Si parla di 12 miliardi. Fanno i calcoli, 12 miliardi bisognerebbe proprio tranciare di netto tutte quelle su 5 mila euro lordi. Lui dice, beh, no, ma non lo farei subito, lo farei con un po' di tempo. Noi abbiamo un cartello, abbiamo fatto anche noi dei conti, Allora, per risparmiare in un anno 12 miliardi, che è quello che diceva Di Maio, bisognerebbe in un anno azzerare 145 mila assegni da 2.500-3.000 euro netti oppure tagliare il 21% dei redditi di un milione di personati. Vabbè, non è un anno, sono sei. Allora dobbiamo azzerare 13 mila assegni da 5.000 euro netti o tagliare del 3-5 i redditi. Questo per fare 12 miliardi, ma la fornero ne fa risparmiare 20 l'anno. Rimarremmo pure sotto di 8 miliardi. A parte il fatto che il dramma della fornero, io lo dico, io ho quasi 40 anni, ho alcuni amici di 30 anni che non lavorano, il dramma della fornero non è soltanto il pensionato che va in pensione a 67, 68, 69 anni. È il giovane che non riesce anche a entrare nel mercato del lavoro, proprio perché questo paese ha troppi nonni in fabbrica e troppi nipoti seduti sul divano. E non perché sono bamboccioni, perché non c'è lavoro se non estremamente precario. Non è legato alla fornero però questo? È legato al pensionamento eccessivo. Qua ci stanno cittadini che vanno in pensione a 70 anni, magari dopo 40 anni di lavoro, dopo un lavoro usurante, questi non sono diritti. Noi vogliamo dare un minimo di qualità di vita. Non è che se loro vanno in pensione non vengano sostituiti, il problema è che manca il lavoro, cioè non è che se loro vanno in pensione subentra un giorno. Però come vede, costringere i cittadini ad andare in pensione troppo tardi impedisce l'entrata in questo mercato del lavoro. Ora è campagna elettorale, per cui tutto quello che dice Di Maio viene vivisezionato. Io ci sto... L'aveva detto pure Renzi, è uguale. Io ci sto, poi guardo Berlusconi che fa il bello e il cattivo tempo con fogli in mano, nessuno mai gli ha chiesto che diavolo ci sta in quei fogli in mano e Berlusconi che spara balle del milione di posti di lavoro e va tutto bene. Allora sulle pensioni. Che vuol dire? Non è che se... Questa è la nostra posizione sulle pensioni. Io ho visto in questi anni che i sacrifici li hanno fatti fare esclusivamente alla povera gente. Noi abbiamo questa posizione. Le pensioni sopra i 5.000 euro netti, 5.000 euro netti, quindi non sono bruscolini, ci va messo un tetto chiaramente scaglionato perché ci sono persone pure che prendono una pensione di 20-30.000 euro al mese. Da lì iniziamo a recuperare dei risparmi che vediamo anno dopo anno quanti sono e iniziamo ad aumentare le pensioni minime perché in Italia campano delle persone con 440 euro al mese. Al di sotto è la sola povertà. Non ci sta bene, quindi troviamo i soldi lì. Se mi dice a scalare da 5.000 euro netti nel tempo... In su, ho detto. Sì, ma da 5.000 euro netti in su a scalare nel tempo vuol dire qualche centinaio di milioni. Noi non abbiamo mai avuto a disposizione... 20 miliardi dell'abolizione In questi cinque anni Floris noi abbiamo fatto i deputati della Repubblica all'opposizione e francamente abbiamo fatto opposizione come nessuno l'aveva mai fatto in questo paese. Ora non abbiamo mai avuto a disposizione il bilancio dello Stato. Che cos'è la politica? La politica significa prendere i soldi da una parte e metterli da un'altra. Questo è politica. Noi avremo qualora dovessimo andare al governo la possibilità di gestire il bilancio dello Stato e iniziare con coperture finanziarie con interventi con leggi che riducono determinate spese o fanno aumentare i gettivi Non è che lo studierete una volta arrivati là assolutamente no lo stiamo già facendo e come lei già sa presenteremo la squadra di governo prima delle elezioni. Però devono sapere gli italiani che per la prima volta c'è qualcuno capace di aggredire alcune sacche di poteri io non voglio dire che quelli che guadagnano 5 mila euro al mese netti siano così privilegiati ce ne sono molti di più però si può iniziare a intervenire da loro perché io non posso tollerare che vi siano pensionati che campano con 440 euro netti al mese per noi la povertà va abolita e va aumentata complessivamente la qualità di vita e tutte le leggi che abbiamo presentato e sono il nostro programma che è vastissimo il piano energetico nazionale per uscire da quel 2050 dalle fonti fossili una legge anticorruzione perché Berlusconi ce l'ha col 5 stelle perché con una legge anticorruzione gli svuotiamo il partito per quello ci teme e va in giro a dire Zeni gli occhi è pronto io intanto la ringrazio grazie devo dirle che al di là delle battute so che non andrà in vacanza e grazie in bocca al lupo grazie grazie